Blender 2.8 è il futuro di Blender. È un'evoluzione simile a quella vista tra la versione 2.4 e la versione 2.5. Normalmente lo scopo di una release di Blender è aggiungere nuove features, aggiungere nuove funzionalità, sistemare bug esistenti o migliorare la performance. Per questo motivo ha senso fare una nuova release ogni 3-4 mesi. Un aspetto importante delle release è il mantenimento della compatibilità con le versioni precedenti. Questa è da sempre una caratteristica di Blender. A differenza di tanti altri software, Blender mantiene una retrocompatibilità eccellente con le versioni precedenti. È possibile aprire file creati con Blender 10 anni fa in una nuova versione di Blender e alta, f12, quindi renderizzare, animare, praticamente senza nessun cambiamento, solo piccoli cambiamenti magari. Per permettere la continuazione di questa innovazione, ogni 4-5 anni, è necessario fare qualche passo indietro e progettare una nuova versione che riorganizzi quanto fatto in passato e allineare i Blender con i nuovi trend, con le nuove tecnologie, con quello che c'è nel futuro. L'ultima volta che una cosa simile è successa è stato appunto il passaggio tra Blender 2.4 e 2.5. Al tempo Blender aveva raggiunto i propri limiti, sia dal punto di vista tecnico che proprio anche dal punto di vista dell'usabilità dell'interfaccia. E quindi la soluzione è stata quella di partire da una pagina bianca, di ripartire quasi da zero. Su YouTube si trovano ancora le playlist di Nathan Lettury, uno sviluppatore di Blender, dove dimostrava il nuovo layout, la nuova interfaccia di Blender, sono semplicemente delle forme divise, delle superfici che si potevano suddividere e tutta la community stava impazzendo, cosa succederà, come funzionerà, no? Ed era molto bello trovare ancora questa cosa online. Il risultato di questo passaggio è stato una nuova interfaccia e tutte le funzioni interne riscritte, riorganizzate in modo più moderno e facile da estendere anche per i nuovi sviluppatori. Al tempo ricordo che stavo scrivendo il manuale di Blender 2.5 e seguire lo sviluppo era incredibile, perché ogni giorno c'erano nuove features, nuove cose, no? L'interfaccia era nuova, quindi era un periodo molto interessante. Allo stesso tempo, qui ad Amsterdam, nel Blender Institute, il team di Sintel stava lavorando esclusivamente con Blender 2.5 e richiedevano il trasferimento delle funzionalità di Blender 2.4 a Blender 2.5, mano a mano, che gli servivano. La situazione per certi versi era paradossale. Da un lato c'era la versione 2.49, super stabile, leggendaria, ci avevano fatto Big Bang Bunny, funzionava perfettamente, tutti sapevano esattamente come funzionava qualsiasi feature, qualsiasi bug, workaround, eccetera, eccetera. E dall'altro c'era Blender 2.5 che a malapena poteva estrudere mentre si modellava. Dopo diversi mesi di fatica e lavoro e un po' di versioni alfa e un po' di versioni beta e la release di Sintel, Blender 2.5 è uscito e ha continuato a crescere, a impressionare vecchi e nuovi utenti fino al giorno d'oggi. Un processo simile succederà per Blender 2.8. In realtà sta già succedendo. Ed anche se non stiamo parlando di riscrivere l'interfaccia da zero, ci sono diverse aree che subiranno radicali cambiamenti. Queste aree sono cinque. Depth Graph, Workspaces, Viewport, Collections e Overwrites. Dependency Graph, Grafico delle Dipendenze, Spazi di Lavoro, Viewport, Vista 3D, Collezioni e Override sovrascrittura delle proprietà. Il Dependency Graph è alla base del sistema di animazione e della valutazione delle dipendenze tra oggetti, rig, constraints. Qualcosa che tocca l'intero Blender è una funzionalità molto interna di basso livello che gli utenti non vedono direttamente ma di cui vedono gli effetti. Grazie al nuovo Dependency Graph sarà possibile avere una migliore performance nelle scene complesse con tanti rig. Al momento i rig e le loro dipendenze vengono valutati su un singolo thread, in un solo processo, durante il processo di animazione. Mentre il nuovo Dependency Graph supporta la valutazione dei rig in modo parallelo. Quindi una moderna CPU con 6-8 thread, la performance sarà 6-8 volte migliore rispetto alla versione attuale. Quindi animazioni più complesse, scene più complesse, rig più complessi. Un'altra feature che sarà disponibile grazie al nuovo Dependency Graph sono gli overrides, ma ne parliamo più tardi. Il nuovo Dependency Graph è in sviluppo già da quasi due anni ed è già all'interno di Blender. È possibile lanciare Blender con il nuovo Dependency Graph dalla linea di comando usando Blender, dash dash enable dash new dash depth graph, trattino trattino, trattino. È stata messa molta attenzione nel mantenere la compatibilità con la versione precedente del Dependency Graph, ma alcuni cambiamenti sono necessari. Quindi in alcuni casi un rig che funzionava nella versione attuale di Blender richiede alcuni cambiamenti per funzionare, ma è per il meglio. E viceversa, un rig che funziona perfettamente con il nuovo Dependency Graph potrebbe avere dei problemi nella versione precedente. Comunque io vi consiglio, se state lavorando a rig, con rig complessi, di provare il nuovo Dependency Graph perché ne vale la pena. Work spaces, gli spazi di lavoro. Su questo tema è stato organizzato il workshop ad Amsterdam alla fine dell'anno scorso e in pratica stiamo parlando di come riorganizzare i vari flussi di lavoro all'interno di Blender, che nel caso della pipeline di creazione di contenuti 3D sono collegati tra loro, la modellazione, texture painting, rigging, animazione, lighting, compositing. Una delle caratteristiche di Blender è questa fluida integrazione che c'è fra i vari processi, ma contemporaneamente ha degli svantaggi, soprattutto nel caso in cui si voglia personalizzare un flusso di lavoro specifico. E il focus di redefinire gli spazi di lavoro è creare una migliore divisione e una migliore comunicazione tra gli spazi di lavoro in modo che siano più customizzabili individualmente e che la linea che separa i diversi flussi di lavoro sia più chiara. Questo ha un effetto sull'interfaccia, per esempio, nel momento in cui stiamo modellando, un'interfaccia di modellazione è diversa rispetto a un'interfaccia di animazione. E Blender appunto è molto facile da personalizzare per raggiungere qualcosa di simile, ma si può andare oltre, no? Quindi è questa l'idea del Blender 2.8, tipo di andare oltre, di andare nel futuro, di fare qualcosa di più moderno, di non accontentarsi di quello che c'è. Viewport, la vista 3D. La vista 3D è dove spendiamo la maggior parte del nostro tempo quando creiamo contenuti. Da un lato ci sarà un aggiornamento tecnico, delle specifiche, da OpenGL 2.1 a OpenGL 3.3, pensando anche a Vulkan, per esempio, no? Un'altra tecnologia del futuro. Si tratta di uno dei progetti più ambiziosi e visibili. Il piano di lavoro è diviso in una serie di milestones che vanno da un motore di rendering real-time di base, chiamato Clay Engine, il motore della Creta, basato su Matcaps, per poi passare a un altro motore più avanzato dedicato inizialmente al flusso di lavoro della modellazione, chiamato Workbench Engine, piano di lavoro, per finire con EVE, un motore PBR, tipo Unreal Engine, in grado di supportare rendering real-time di altissima qualità. Nel caso di Blender sarà possibile visualizzare gli shaders di Cycles, nel modo più fedele possibile, direttamente nella vista 3D, in tempo reale. Non male. Le collections, le collezioni. Parliamo dell'organizzazione dei contenuti all'interno di un blend file, di come i nostri oggetti sono organizzati, sono raggruppati all'interno di un file di Blender. Il sistema attuale con i 20 layer e i gruppi è abbastanza limitante, nonostante ci siano add-on per aggiungere funzionalità, tipo dare nomi ai layer o in qualche modo cercare di espandere quanti layer ci sono all'interno di Blender non funziona. E quindi il team sta lavorando a una soluzione molto più flessibile, che sono le collezioni. E non stiamo parlando semplicemente di un sistema di visualizzazione per nascondere, mostrare o raggruppare oggetti, come instanziare questi oggetti nella vista 3D, di come duplicarli, di come modificare selettivamente alcune proprietà di queste copie di oggetti che mettiamo nella vista 3D. Il che ci porta all'ultimo argomento che sono gli overrides. Questa cosa non so come tradurre, la sovrascrittura delle proprietà. Gli overrides sono una funzionalità molto legata a una pipeline complessa, dove più persone lavorano contemporaneamente o dove sono chiaramente definiti diversi step nella produzione di un contenuto. Per esempio gli overrides permetteranno di avere un modello nella vista 3D, e di duplicarlo e di essere in grado selettivamente di cambiare e alterare alcune proprietà. Come funzionano questi overrides? Per esempio nella vista 3D aggiungiamo una tazza. La tazza ha una mesh, ha uno shader, ha un materiale, l'aggiungiamo alla nostra scena. Un sistema di overrides ci permette di creare una copia identica di questa tazza e di cambiarne una proprietà. Per esempio decidiamo che la superficie abbia una diversa finitura, quindi in questo caso abbiamo lo stesso materiale ma un diverso surfacing, una diversa superficie. Gli overrides sono un argomento super interessante, ne parleremo più nel dettaglio in futuro con una demo magari. Ok, domande. Dove trovo Blender 2.8? Da un paio di settimane è possibile reperire Blender 2.8 direttamente da download.blender.org. Quindi potete andare sul sito, scaricare la versione di Blender e provarla. Ovviamente a vostro rischio e pericolo, non utilizzatela in produzione. Per altre build più sperimentali potete anche andare su graphical.org che da più di 10 anni ospita builds create dalla comunità. Ci trovate di tutto. Scaricato Blender, trovate Blender 2.8, trovate un bug. Come segnalo un bug agli sviluppatori? Not yet. Non ora, non è ancora il momento, cioè in fase di sviluppo ancora Blender 2.79 e Blender 2.8 è ancora in early development, in uno sviluppo iniziale. Quindi gli sviluppatori hanno bisogno ancora di tempo, sono a conoscenza di numerosi bug che già esistono. Aggiungere la pressione esterna di utenti che segnalano bug non aiuta al processo di sviluppo a questo punto. Quando uscirà una versione alfa di Blender 2.8 allora sarà un ottimo momento per fornire feedback. Blender 2.79 ha una serie pazzesca di features, quasi questa 2.79 non doveva succedere, gli sviluppatori volevano passare direttamente la 2.8, però shadow catcher, nuovi Disney shaders, i miglioramenti della performance con OPCL, quindi un migliore supporto delle nuove schede video di AMD. Ci sono le nuove schede video AMD che a parita di prezzo hanno migliori performance rispetto a Nvidia, che è un bel miglioramento considerando il fatto che negli ultimi 3-4 anni AMD era assolutamente inutilizzabile con Blender. E infine Alembic, la tecnologia per trasferire, per importare ed esportare dati da altri software, che è molto molto importante nel caso di uno studio di animazione. Ok, questo è quanto per i piani della 2.8. Se ci sono domande fatemi sapere, io vi tengo aggiornati. Alla prossima, ciao!